Sarà difficile nei prossimi giorni cimentarsi nell'impasso della pizza per lo skipper di Oracle, Jimmy Spitil. Da domani infatti si fa sul serio per il leader dell'imbarcazione detentrice dell'America's Cup e i suoi sfidanti. Dopo i primi giorni riservati alle prove libere degli 11 catamarani in gara, si parte con le regate ufficiali. Stamattina invece si è svolta la conferenza stampa di presentazione delle gare. Domani è la prima giornata con tre regate di flotta di 35 minuti ognuna che vedranno coinvolte tutte le imbarcazioni sul percorso nel Golfo di Napoli che va da Mergellina a Castel dell'Ovo. Le previsioni del tempo non sono buone ma gli equipaggi sono ottimisti perché ha annunciato la presenza di vento. Fiducioso anche il presidente della regione Campania Stefano Caldoro. Tutto serve per un rilancio dell'immagine che purtroppo negli ultimi anni non ha portato questa bellissima foto, questi bellissimi filmati di straordinarie bellezze. Noi spesso poi guardiamo solo gli aspetti negativi e non guardiamo invece le enormi potenzialità perché poi quando un turista viene qua dice ma non era poi come si diceva fuori, sono bellezze straordinarie, una città che riesce a offrire quell'accoglienza di una grande città europea. Questo è il senso della Coppa America, chiaramente di questo avvenimento sportivo che si inserisce in un quadro complessivo di rilancio della nostra regione. La manifestazione ha ricevuto anche il beneplacito del presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, che ha inviato un videomessaggio durante la celebrazione serale in piazza del plebiscito. In attesa che i catamarani scendano in acqua, il sindaco De Magistris si gode anche il grande successo della ZTL in via Caracciolo, presa d'assalto nel giorno di Pasquetta da 300.000 napoletani. Il lungomare liberato non è il lungomare liberato per l'America's Cup, è un lungomare liberato per sempre. Quindi questi eventi servono per far capire anche la potenzialità della nostra città. Quindi questa è la strada che abbiamo intrapreso e andiamo in quella direzione.